Le torri del vento, torri a chiappavento, sono architetture tradizionali dell'Iran che sono state sviluppate nel corso dei millenni dagli antichi persiani. L'Iran è caratterizzato da un clima caldo secco in cui ci sono forti escursioni termiche giornaliere, in cui si raggiungono temperature elevate di 40-50 gradi e in cui le precipitazioni annue sono ridotte. Lo scopo essenziale di queste torri è quello di favorire la ventilazione dell'aria e possono avere forme e dimensioni differenti. In questo caso la torre è alta 10 metri e la base è un quadrato di lato 3. Il vento colpisce una delle superfici della torre trasformandola in una superficie ad alta pressione, mentre la superficie opposta è una superficie a bassa pressione. L'area che si trova all'interno è quindi sottoposta sia ad una differenza di pressione sia ad un aumento di velocità dovuto allo spazio ristretto. Viene quindi incanalata verso gli spazi inferiori che possono essere interrati o semi interrati come in questo caso e vengono raffrescati. L'aria calda a questo punto viene indirizzata nuovamente verso la torre in cui sale e da cui viene espulsa attraverso questi fori. Nel corso del tempo questo sistema di raffrescamento passivo è stato perfezionato attraverso lo sfruttamento dei canat che sono canali sotterranei che possono trovarsi a differenti profondità. In questo caso il canat è posto ad una profondità di 5 metri, l'aria calda entra attraverso questo condotto, si trova così a contatto con l'acqua del canale e viene umidificata. L'aria umidificata a questo punto entra all'interno degli ambienti e lei raffresca. Quest'aria umidificata spinge anche l'aria calda all'interno della torre nella quale sale e dalla quale viene espulsa. Il canat ha anche la funzione di evitare l'effetto polvere in quanto trascina via con sé la sabbia che viene introdotta con l'aria. Verticalmente queste tori sono suddivise da un diaframma di X che ha lo scopo di evitare la formazione di turbulenze ma anche di creare dei condotti che facilitano l'ingresso alla fuorifita dell'aria. Questo sistema funziona anche in assenza di vento in quanto le pareti accumulano colore e lo rilasciano all'interno e come insegna la fisica l'aria calda essendo meno densa va verso l'alto e quindi viene espulsa dai fori della torre. Durante la notte invece le pareti si raffreddano e emettono aria fresca nelle ore successive.